buongiorno a tutti buongiorno a tutti da Tiziana Manimpasto come vedete sono in macchina allora sto facendo questo questo video mi vedo allora sono in macchina perché sto facendo sto facendo un qualcosa che in questo momento preferisco non dirlo per scaramanzia ma presto lo saprete e spero che sarete tutti con me veramente tanto lo so quanto mi volete bene e io sono sicura che sarete con me allora questo video però era non era per dirvi questo soltanto ma per dirvi che in pratica Lorena spero che si veda bene Lorena lavorando un po' su youtube e che voi sapete che Lorena mi dà una mano veramente grande sia sui libri e sia su youtube e in pratica un giorno ha visto che si potevano fare dei gadget però non è diciamo una cosa cioè innanzitutto non è una cosa che dovete fare per forza è una cosa che si fa il sole che fa riflesso accanto a me è una cosa che si può fare diciamo che si può fare ma non è una cosa che si deve fare per forza è una cosa che era già aggiornata con youtube forse per chi raggiunge un certo tipo di numeri scusate l'abbagli ma qua sono abbagliata guardate ecco così va meglio allora e dicevo forse per chi raggiunge un tipo di numero su un canale e gli danno la possibilità di avere dei gadget allora Lorena si è messa un giorno e ha visto che mettendo delle foto mettendo un qualcosa e si potevano fare senza nessun vincolo senza niente cioè si potevano mettere e basta e quindi ha detto ma io non so se è andata può essere pure che è andata comunque non è un obbligo non è niente cioè è stato messo giusto perché youtube gli dava questa applicazione e Lorena l'ha fatta ecco siccome mi è stato mentre rispondevo ad alcuni messaggi mentre sto andando su questa famosa avventura che sto facendo e ho ricevuto il messaggio e il commento di Maria Grazia Menghi ti saluto e saluto a tutti voi naturalmente e mi diceva che ha messo un commento ma che non aveva ancora risposto che non si vedeva non lo so comunque io ho subito fatto questo video proprio apposta perché ci tenevo a dirlo questa cosa siccome ce ne siamo accorsi anche noi stamattina che c'erano questi gadget nonostante Lorena l'avesse messi forse più di una settimana fa forse si stanno vedendo dopo una settimana a questo punto e quindi ho ritenuto giusto dire questa cosa qua quindi non c'è nessun vincolo, non siete obbligati, non vi preoccupate e se vi fa piacere lo prendete altrimenti tranquillamente come è stato sempre sarà quindi niente e vi volevo aggiornare sul fatto del libro e ieri mi è arrivato la bozza del libro veramente si stanno dando da fare alla curcugianovese proprio alla grande, il terzo anno sono contenta, sono contenta di come è venuto il libro e naturalmente non è finito e manca poco però io pensavo che pubblicavamo verso Pasqua ma no, anticipiamo sicuramente ieri sono andata anche con Davide abbiamo, no ma guarda caso noi eravamo andati a prendere i gadget per sapere che io in ogni libro metto in un pezzettino, non un gadget e torno dal negozio arrivo a casa e mi arriva l'email della bozza del libro dico, no guarda è stato proprio una combinazione questa qua quindi i gadget l'abbiamo scelto e l'abbiamo ordinato e naturalmente voi sapete quest'anno scusate quest'anno il libro sarà ricette inedite le ricette che troverete sul libro non ci sono su Youtube ho fatto diciamo doppio triplo lavoro però secondo me volevo volevo fare una cosa diversa dagli altri anni quindi spero che vi piaccia sono veramente contenta e felice e basta niente ah e le copie quest'anno siccome il navigatore siccome che questo è il terzo anno la casa editrice ti dà la facoltà di scegliere quante copie tu vuoi prendere quindi io ho preferito prenderne 100 soltanto e gli altri magari verranno ordinati diciamo sapete no? su Amazon ebay casa editrice librerie come avete fatto sempre ogni anno niente mi è piaciuto fare questo video perché ogni tanto mi piace lo sapete scambiare anche se no non mi potete rispondere in questo momento so che lo farete attraverso i commenti e mi fa piacere niente meno male che oggi è una bella giornata io sono quasi arrivata a destinazione e vi aggiornerò vi assicuro che vi aggiornerò di quello che sto facendo e mi raccomando a prescindere ancora non sapete bescaramanzia non lo dico dovete tifare per me mi raccomando ok io vi saluto e e niente grazie a tutti di cuore vi raccomando ricordate sempre che in ognuno di noi brillano luce ciao a tutti di cuore da Tiziana Manimpasta non so quando chiuderò se chiuderò bene perché io non sono abituata a fare video bottone rosso dice Davide speriamo ciao a tutti vi voglio bene ciao ciao